Lo Statuto dei Lavoratori, vi ricordo che è una legge dello Stato, una legge, e chi ha paura della legge ha paura della democrazia. Grazie Senatore Baruzzino, è scritto a parlare il Senatore Pagano, ne ha facoltà. Colleghi, vediamo di ritirare quei manifesti. Visto l'assenza cronica dei nostri questori, procediamo attraverso i collaboratori.